La presidenza del Consiglio dei Misi mette la mano al collo alle persone? Ha quasi strozzato il signore e ha parcheggiato l'attrice. Ma mi ha messo una mano al collo la presidenza del Consiglio? Ma non solo, parcheggio pure l'attrice. No, 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 stiamo parlando con un'altra attenzione. Guardi che lei ha da ricalcio alla macchina. Ma quale carcio? Di cosa sta parlando? Ma che sta? Ma è ieri? Ma che sta? Ma è ieri?